Allora guardate qua, oggi non basta stare attenti solo a guidare, non basta stare attenti a tutte le buche che ci sono per strada che se ne prendi una per quanto so grandi ci finisci dentro a fuochi, non basta stare attenti a tutte le autovelox e le trappole che ci sono, no? Devi stare attento pure che magicamente mentre stai guidando per i cavoli tuoi qualche cinghiale ti salta sopra la macchina e ti rompe mezza macchina o se ti va male ti manda in ospedale Ieri sera mentre ritornavo a casa un cinghiale, che poi quello per quanto era grosso era un orso, non era un cinghiale Marotto, paraurti, cofano, parafango, faro, la porta non si apre più e questo è quello che significa guidare oggi in Italia